Pierezza Ghezzi, buongiorno, siamo qua nella sede del PD in via De Preti Savoghiera e stiamo per parlare di questi volantini che girano in questione per la città. Volantini che arrivano a tre giorni dal voto. Si è fatto un'idea su chi possono essere gli autori di questi volantini e quali sono state le conseguenze di questa opera? Sono appena tornato dalla caserma dei Carabinieri perché sono stato costretto a denunciare per diffamazione gli autori di questi volantini che sono lesivi della mia dignità e che non possono far parte di una campagna elettorale che si basa sulla correttezza. Sono dei fani dei sostenitori di Barbieri stanno invadendo la città con dei volantini non autorizzati, illegali e che sostengono che io guadagnerei illecitamente dei soldi o che ho della responsabilità nella gestione dei rifiuti quando io non ho mai avuto responsabilità ovviamente nei rifiuti perché sono un candidato sindaco e non ho mai governato la città e sicuramente sono l'unico candidato che ha le mani pulite che non ha mai messo le mani in tasca e ne ha meno i vogheresi con l'aumento delle tasse e che comunque sulla legalità ha combattuto una battaglia molto forte. Io mi aspetto che il sindaco Barbieri prenda le distanze perché questi volantini girano da ieri, sono suoi sostenitori, è anche scritto, lo dicono e lo sostengono, non si presentano perché sono anonimi. I carabinieri hanno iniziato a ricercare la società che distribuisce questi volantini in città. Io mi aspetto che il sindaco Barbieri prenda le distanze da queste iniziative che sono iniziative illegali e che guarda caso vengono proprio dalla sua parte. Secondo lei che influenza avranno sul voto i suoi cittadini? Credo che avranno un'influenza negativa, io mi auguro che abbiano un'influenza negativa su chi li ha distribuiti perché i vogheresi ritengono che siano primo che mi conoscono molto bene e sanno che sono un personaggio dalle mani pulite, lo ripeto. Secondo perché non si fa battaglia elettorale così, la battaglia elettorale si fa in maniera trasparente parlando direttamente negli occhi alla gente e non con i volantini diffusi illegalmente. Perezzo Ghezzi ha comunicato di essere stato questa mattina dai carabinieri per denunciare, fare una denuncia contro i gnoti per ciò che concerne dei volantini che sono girati per la città nel corso delle ultime 24 ore e ha detto di auspicare che lei facesse una sorta di comunicato dove si dissociava dal contenuto di questi volantini, lei li ha visti oppure no? No, i volantini non li ho visti e tutto quello che non mi interessano, la mia campagna elettorale e tutti i miei documenti riportano il nome del committente elettorale, di tutto il resto io non posso e non sono la conoscenza e non sono la conoscenza.